Ah 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 Wendy sono molto contenta per te Io invece sto uscendo con questo tipo da una settimana ormai Mi ha portata anche ieri sera cena in questo posticino molto chic Si chiama Mario Mamma puoi venire un attimo? C'è la zia che sta usando il mio computer da un'ora ormai Ma mi serve non me lo vuole ridare Puoi fare qualcosa? Scusa un attimo Wendy Mamma ma che cazzo ti vuole? Non vedi che sono al telefono? Poi non vedi che ho un cazzo di tua zia nel tuo computer e di tutta la tua tutta nata del cazzo Dissimo Wendy Sia mi serve il computer Devo stampare le foto che ti siamo fatti io e Irina nel nostro viaggio Che pugnetta Paolo un attimo Sto facendo una cosa importante Sto Tinder è proprio top Vediamo Che figo questo Che muscoli Mi sa che lo faccio venire qui a casa Mamma non sono andata la porta Vado a vedere io chi è Salve Sì? Va bene Sì? Asse qualcuno per te È già arrivato Che se c'è il senso Eccomi Che merda Ciao Sei tu Guendalina? Io sono Mario Stallone 94 Lo so Lo so Wendy scusami guarda Ti richiamo in un altro momento Che qua c'è un gran casino Va bene Ciao tesoro Mi spiegate che cazzo sta succedendo in casa? Mario? Cosa ci fai qui? Ursula? Ciao caca Ma cosa ci fai te qui? Io ho un appuntamento con Guendalina Una pu... C'è dopo la settimana che usciamo Per un appuntamento Con mia sorella Mi fai proprio schifo Cos'è proprio come tutti gli altri uomini E adesso si può sapere Guendalina Com'è cazzo lo conosci? Ma sì Scalmati sorella Con un giusto su Tinder Ma guarda Te lo puoi tenere Perché sei proprio schifo Non si può sapere cos'è tutto sto baccano Ma avete svegliata Oh Mario Quanto tempo Sembra in forma Ah Poi te lo conosci? Cosa avevo un appuntamento Che con te è stato qua ormai? Non mi pare oggi Mario Il nostro appuntamento Non è per sabato? Lui Il mio cliente è fisso Ma dai Non fate così Potremmo fare una cosa a quattro Ma perdono in acqua Comunque Ursula Che un mio coglione La fai tanto lunga Ma ne troverai un'altra Ma perché cazzo si trova E lui è un pezzo Mi ditte Non so io cosa ci trova Come si dice Lo cervello Ma grande o cielo Irina Aaaaaaah